Dopo la sconfitta per larga parte in attesa della Pompea Mantova contro l'Urania Milano nell'esordio La Grana Padano Arena, domenica l'occasione del riscatto per i Biancorossi si materializzerà a Ferrara, che da quest'anno è la nuova casa dell'ex capitano degli Stings Luca Vencato. Compattezza e forza di spirito di non abbattersi nelle difficoltà che la partita metterà davanti a Gersetti e compagni. È questa la prima preoccupazione di coach Alex Finelli, che presenta quelle che sono le difficoltà di questa partita. Buona, solida partita. Sì, noi venivamo da un'ottima partita dove tutto era andato nel verso giusto contro Piacenza, percentuali alte, vantaggio corposo e quindi non sono stati momenti di difficoltà nel gestire una partita. Tutto è andato via facile. Viceversa con Milano abbiamo trovato un avversario che ci ha messo maggiormente in difficoltà e noi abbiamo tirato con percentuali inferiori, quindi era una partita con un tasso emotivo o un'emotività più alta. In quella situazione lì ci siamo disuniti ed è la lezione che dobbiamo imparare. Con qualche errore in meno, con una maggior quadratura individuale, una maggiore attenzione ai dettagli che parte dal singolo giocatore, avremo vinto una brutta partita. Invece siamo qui a commentare una scoffitta, ma dobbiamo mettercela da parte, resettare, imparare e proiettarci alla gara con Ferrara, che sarà una partita, l'abbiamo già sperimentato in Supercoppa, perdendo una partita fisicamente molto impegnativa contro un avversario fisico, un avversario che abbina talento a fisicità e ci aspetta una gara attenta, difensivamente, sicuramente, ma anche da affrontare con una maggior scioltezza di testa. Sicuramente Vincato, che è il primo hacker della squadra, che conosciamo bene e sappiamo come può mettere in difficoltà l'avversario. Una coppia di stranieri Wix e Campbell sul perimetro, Campbell in particolare il leader della squadra, giocatore molto forte in avvicinamento a canestro, e una coppia di lunghi di esperienza come Baldassare e Fantoni. Di fianco a loro, dalla panchina, Panni, che è il giocatore che l'anno scorso era titolare, il premio titolare di Ferrara, che dà, diciamo, verve dalla panchina e, nel settore lunghi, Ebeling, figlio d'arte, che anche lui ha minuti importanti.